Ciao amici amici, sono David Cortese e questo è il mio sito web www.david-cortese.com Ho scritto per voi un documento sull'istituzione dei computi, quindi iniziamoci, leggiamo insieme. Introduzione La storia dei computi è una giornata fascinante che rifletta l'innovativo della race di umano. Questa giornata non solo incluisce il sviluppo fisico dei computi, ma anche un comprensione della teoria computazionale e le mesi principali nel sviluppo della tecnologia computa. La storia di meccanica, 3000 B.C., 18-19 A.D. L'inizio più conosciuto per la computazione era l'abacus, sviluppato nel primo secolo B.C. in Cina. Later, in 1642, Blaise Pascal inventò il pastellino, un dispositivo meccanico che potrebbe fare addizione e substituzione. In 1801, Joseph Marie Jacquard inventò un loom che usava le cartelle puntate per controllare il patto che si tratta. Questo è considerato un passo importante nel sviluppo del computo perché l'uso di cartelle iniziavano le cartelle di funwoveni possono essere considerati come una formazione dell'albretto limitata di programmabilità. La storia di meccanica, 1840-1940. In 1833, Charles Babbage conceptualizzò e iniziò a sviluppare il Differences Engine, considerando la prima macchina di computazione automata. un'albretto limitata. Il Differences Engine era capabile di computare diversi sette di numeri e di rendere copie difficoltà dei risultati. Babbage seguisse questo con il design dell'albretto analitico, un dispositivo generalizzato, completamente programmatico computazionale. In 1890, Hermann Hollerith designava un sistema di cartone per calcolare l'albretto 1880, accompagnando le tassi in solo tre anni e salvando al governo 5 milioni di dollari. Establishò una firma che potrebbe finalmente diventare IBM. Il birth of modern computing, 1936-1945. Alan Turing is credited with being the father of modern computing. In 1936, Turing proposed a device called the Universal Turing Machine. The concept of the Turing machine is still used by computer scientists today. During World War II, a team of scientists and engineers at the University of Pennsylvania designed the INIAC Electronic Numerical Integrator and Computer, the first general-purpose electronic computer. It contained 17468 vacuum tubes, 7200 crystal diodes and 70.000 resistors. The stored program computer, 1945-1955. John von Neumann, a mathematician and physicist at the Institute for Advanced Study in Princeton, played a key role in the development of the stored program computer. This type of computer executes instructions from memory. The first working von Neumann machine was the Manchester Baby of Small Scale Experimental Machine. However, the first full-scale implementation of this architecture was the EDZ-AEC Electronic Discrete Variable Automatic Key Computer. The personal computer revolution 1964-1977. The first personal computers were introduced in 1975. The MITS Altair 8800 followed by the IMSAI AT80 and Altair Clone. Both used the Intel AT80 CPU. That same year, the first successful minicomputer digital equipment corporations 12-bit PDP8 was marketed. The rise of the internet, 1978, present. The development of the internet began in earnest in the 1970s, making it possible for home computer users to communicate with other computers. The world wide web became publicly accessible in 1991, giving users access to information via websites. Conclusion. The history of computers is marked by a constant shift in the technology that powers them, from mechanical gears to today's microchips. It is a story of collaboration, innovation and a constant drive to make technology faster, smaller and more capable. And it is a story that is still unfolding today. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Bye bye.